bentornati su my football jersey rivediamo una maglia già vista in passato almeno una volta in versione fan trovate qui in alto la recensione questa è la terza maglia della roma in versione player la versione player è quella più tecnica indossata dai calciatori a la maglia è molto bella tra l'altro finalmente con lo sponsor ha quel tocco in più bellissime le tre strisce con i tre colori diciamo così che caratterizzano la roma al costo che vedete qui sopra un affare imperdibile se volete sapere dove acquistare la maglia trovate i riferimenti qua sotto in descrizione andate a vedere perché sul sito insieme a questa troverete tantissime offerte che vi attendono se volete tutti i giorni recensioni come questa di questa maglia mi raccomando iscrivetevi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale